sì ecco adesso faccio vedere il game watch la cam ecco questo è il game watch c'è l'orologio si vede si e la si può che mutare audio ecco ok poi ecco si può sistemare l'orologio piccolino mettiamo l'audio e faccio vedere i giochi adesso le tè ecco allora c'è super mario boss 1 ecco facciamo una partitina ecco va bene la poi c'è l'altro gioco c'è il Super Mario Boss 2 ci faccio vedere questo è il Super Mario Boss 2 e poi c'è questo che è Ball si chiama riprende le palline ok Game Watch Ball si chiama ecco la mettiamo qua l'autorotio qui si fa a mettere l'autorotio ecco e questo è l'autorotio adesso lo muto lo muto non mi da fastidio ecco ecco fatto là molto piccolo piccolino si sta dentro la mano metto via ah per caricarsi ci vuole il cavo della switch faccio vedere ci vuole questo cavo qua della switch per caricarsi ecco la metto via adesso passiamo a due sense ecco che è Ghigio pensavo che la bianco ma c'è Ghigio Ghigio chiaro qua qua si sono ripese pesa per l'audio non si vede la mazza ecco così il tasto ps il tasto home è fatto così il tasto home non so se si vede ah c'è acceso anche posso accendere la play? no non si vede ecco adesso si vede il simbolo della playstation star storm ah poi si sa i tastini qua da logico un po' pesantino più pesante del pad del hitbox un po' un pochino più pesante qua l'atto eh ma questo non so sarà il tasto per fare sharing questo mi sa e questo il tasto per fare dell'audio del microfono qua o è questo qua ah c'è anche un tastino qua forse è questo per mutare il microfono questo è per alzare l'audio perché vedo che c'è non so che cos'è questo e questo si per mutare l'audio questo qua sopra e qua si attacca il cavo per caricarsi dietro lì ecco si sui tasti allora e per caricarsi si usa sempre il cavo da twitch vedo che va dentro bene ecco ah le luci ho visto che ci sono le luci poi do a collegare eh al pc collegiamo il pc per far vedere le luci però non va sul mio pc perché penso che si vuole la chiavetta uscb ecco la ah la luce va e vieni intermittenza vedo mi so che si vuole la chiavetta se la chiavetta bluetooth per farlo andare no ah ve lo si stacco poi vediamo un po' facciamo vedere ah la scatola di parte è così non c'è dentro il cavo non c'è dentro il cavo 6b e senso senza il cavo non c'è dentro il cavo accendito c'è fatta roba no ah c'è scritto compatibile con il psion 5 adesso mi manca la psion 5 eh però un però più avanti questo lo tengo come per scorta questo qua lo tengo come secondo parte di scorta se viene qualcuno che vuole giocare faccio questo la invece quella è la confezione la prima lo tengo per me ah poi la scatola del game del game watch eccola qua questa qua si vede si è figata si sposta si vede il gioco quell'altro giochetto se lo metto su si vede supermanium così cosa così cosa e poi adesso tolgo questa che si vede meglio ecco la si vede ecco c'è dentro la sveglia il gioco con il bianco e nero superman 1 superman 2 la buh guardo con il game eh